Un'udienza che i familiari delle vittime del terremoto avrebbero preferito non dover mai presenziare. Invece, proprio all'inizio di un anno per loro molto delicato, quello del decennale del sisma del 2009, si sono dovuti presentare questa mattina al Tribunale dell'Aquila per discutere la causa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella passata legislatura nei confronti dei parenti delle vittime del terremoto del 2009. Una causa da subito bollata come uno schiaffo alla memoria delle persone decedute sotto i crolli dell'Aquila e una beffa per i familiari che vorrebbero dimenticare il loro dolore. Dolore acuito da una causa che lo Stato intenta per chiedere la restituzione delle somme provvisionali concesse a titolo di risarcimento nell'ambito del processo alla Commissione Grandi Rischi e che in via definitiva ha visto la condanna dell'ex vice capo della protezione civile Bernardo De Bernardinis. Un'udienza importante quella di oggi perché stabilisce un passo nella direzione delle richieste delle parti civili, come spiega l'Avvocata Vania Della Vigna. L'udienza di oggi è stata importante perché è stato necessario riunire la posizione della mamma, Maria Grazia Piccinini, la mamma di Ilaria Rambaldi, a quella della sorella Alessandra Rambaldi, proprio perché la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva instaurato tante cause quanti erano i familiari di ogni singola vittima e questo ovviamente con un dispendio di energie notevole. Quindi noi abbiamo chiesto e giustamente il giudice ha accolto la riunione dei procedimenti. Articoleremo le prove e quindi dal 13 in poi il giudice deciderà se ammettere o meno le prove che noi andremo in questi mesi ad articolare e poi saranno sentiti testimoni che dovranno dimostrare quello che noi riteniamo e cioè che c'era un nesso eziologico, un nesso causale importante tra le rassicurazioni del vice capo della protezione civile, De Bernardinis, e la morte di Ilaria Rambaldi. L'udienza ha riaperto le ferite di un dolore insuperabile per i familiari delle vittime, tra loro anche Maria Grazia Piccinini, mamma di Ilaria Rambaldi, la giovane studentessa di Lanciano che ha perso la vita tra le macerie di via Campo di Fossa e che risponde con durezza al vice premier Luigi Di Maio, il quale ieri si era assunto l'impegno di attivarsi immediatamente per risolvere la vicenda. Ieri è uscito un comunicato di Di Maio, che è vice premier, che diceva che questo processo si deve bloccare. Ecco, io mi sarei aspettata stamattina che l'avvocatura dello Stato venisse e non che abbandonasse il giudizio, perché questo non me lo aspetto da avvocato, però ritirasse la richiesta di provviso di esecuzione oppure chiedesse un termine per trovare una soluzione transattiva. Invece, niente, siamo andati avanti normali, come se nulla fosse. E allora, voglio dire, queste parole cosa sono? Sono soltanto parole al vento? Sono solo parole che riempiono i giornali? Cioè, io voglio vedere qualcosa di concreto. Io ho scritto a Conte...